Gli agenti della squadra mobile e del commissariato di Gela hanno tratto in arresto un uomo per la detenzione di un fucile a canne mozze, detenzione di munizioni e possesso illegale di un coltello. Gli uffici investigativi della Polizia di Stato, nell'ambito dei continui servizi di controllo del territorio nel comune di Gela, hanno appreso la notizia che un uomo potesse detenere un'arma presso la propria abitazione. Gli investigatori hanno quindi effettuato una perquisizione domiciliare, rinvenendo dopo un accurato controllo, un fucile modificato e delle munizioni nascoste nel controsoffitto. All'arma erano state mozzate le canne e accorciato il calcio, modifiche che ne aumentano la potenzialità offensiva e ne facilitano l'occultamento. La perquisizione personale dell'uomo inoltre ha consentito di rinvenire addosso al soggetto un coltello a serramanico. La procura della Repubblica di Gela ha chiesto la convalida dell'arresto, presentando al GIP anche la richiesta di applicazione di misura cautelare custodiale. Il giudice per le indagini preliminari, oltre a convalidare l'arresto eseguito dalla Polizia di Stato, ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di detenzione d'arma clandestina e ricettazione.